Ben trovati amici a Casa Rinaldi, l'appuntamento con la musica italiana oggi ci porta a conoscere una nuova giovane amica. Con noi abbiamo Anna Luppi, ciao tesoro. Ciao a tutti e tutti. Come stai Anna? Bene dai, abbastanza bene, sì sì sì, non mi posso lamentare diciamo. Ecco no, se hai un disco nuovo che è in circolazione quindi c'è una promozione, le cose vanno benissimo. Vi presento Anna Luppi, è un'artista mantovana, una cantante, compositrice, flautista e nel corso della sua carriera ha suonato diverse volte su piccoli e grandi palchi italiani, ha interpretato veramente tante belle canzoni, tanti bei brani, oggi noi la conosciamo con lei nella cover che si guarda allo specchio, quindi c'è un confronto con te stessa, che ci presenta Join Your Heart. Praticamente Join Your Heart, un titolo in inglese ma per una canzone in italiano, che lei ha scritto in inglese con un ritorno all'inglese, ce lo racconti, ci spieghi il significato di questo titolo, vogliamo sapere tutto Anna. Sì, anche perché la canzone nasce in italiano e spagnolo, quindi sono due versioni, una in italiano e una in spagnolo. Quello che rimane invariato è sempre l'inglese, che tra l'altro è una lingua con cui solitamente io non mi misuro, perché temo si senta un po' il mio accento italiano, insomma, e non è una lingua che domino tanto quanto le altre due. Però, siccome vado spesso all'estero a suonare, sarò fra poco, fra pochissimo in Germania e Austria, appunto, a presentare queste ultime nuove canzoni, mi sembrava una lingua più immediata per raggiungere certi popoli, diciamo, che ovviamente la usiamo proprio come lingua franca quando andiamo da loro, e quindi, insomma, volevo far arrivare un messaggio più immediato, appunto, come in inglese. E quindi, join your heart, letteralmente, io lo tradurrei come riconnettiti al tuo cuore, però è stato scritto così, quindi, come dire, secondo me ha la sua potenza così come lo sentite, join your heart. Quindi non andiamo a tradurre tutto quanto, perché ci sono delle cose che vanno dette così, punto e basta. Join your heart è un brano energetico, incalzante, che rimanda immediatamente alla dance pop spenserata dei primi anni 2000, e quindi è un brano che potete ascoltare su tutti gli store digitali, in rotazione radiofonica, su YouTube c'è il video, e ovviamente su Spotify lo potete utilizzare come vostra colonna sonora preferita, perché io vi ripeto sempre, la musica siete voi che la potete scegliere e la dovete scegliere, quindi andate, createvi la vostra colonna sonora preferita. Join your heart è un brano veramente energetico, di quelli che ti fa venire voglia di muoverti, magari fai le faccende di casa e ascolti questa canzone. Eh sì! Sì, diciamo che puoi fare anche delle cose molto più divertenti che le faccende di casa, però sì, diciamo che per renderti più piacevole una cosa non piacevole, sì, la musica sicuramente, spero possa aiutare, sicuramente l'idea era di parlare di qualcosa di comunque profondo, anche se in tono comunque leggero appunto per il tipo di brano che è più da ballare, però l'idea di trovare un minuto per noi stessi, per riconnetterci appunto con il nostro cuore, con le nostre emozioni, ritrovare l'armonia, che in questo mondo è sempre molto difficile, però al tempo stesso anche buttare fuori le nostre energie, lasciarle fluire, lasciarle andare e viverle, viverle anche fisicamente. Anche perché buttando fuori le energie che abbiamo dentro poi ne mettiamo, ne rincorporiamo nuove e quindi magari migliori potrebbe essere, no? Sì, speriamo di sì, sì sì, poi è un circolo, un fluire, quindi sì. Che mai vizioso ma sempre ottimo, con ottimismo al massimo. Sei connessa con il tuo cuore, Anna? Allora, a volte forse anche fin troppo, nel senso che a volte, credo di sì, ecco, credo di essere connessa con il mio cuore, a volte al punto che questa cosa mi fa soffrire, nel senso che questo non è un mondo fatto su misura per chi ascolta le proprie emozioni, le sa riconoscere, le vive sulla propria pelle e, come dire, le vivrebbe in modo spontaneo senza filtri. Per cui è una grande fatica a volte mettere comunque, sì, dei filtri, delle protezioni, non so bene se... Bisognerebbe tenerle, magari, sì, bisognerebbe avere dei filtri per cercare di non far soffrire troppo il cuore, però se mettiamo filtri non potremo mai connetterci con noi stessi, con il nostro cuore, perché è come se io metto una barriera tra una mano e l'altra, non sento il calore del mio contatto della pelle, quindi no, i filtri no, Anna, no, dai, assolutamente. Diciamo che io alla fine ho pensato di... mi salvo in qualche modo mettendo tutto nella musica e quindi lì vanno a finire, insomma, le mie emozioni e quello che passa nel mio cuore e trovo un po' di pace nella musica. Ecco, ecco, infatti in qualche modo bisognerebbe che ognuno di noi trova pace nella strada giusta e tu lo stai incanalando in quello che è la musica, una bella musica. Join Your Heart è il brano che stiamo presentando di Anna Luppi, questa cantautrice, questa compositrice, e vi dico che il brano è estratto anche da un mini EP che contiene una versione in italiano, una in inglese e una in origine spagnola, cioè praticamente in lingua spagnola. In tre lingue tu hai inciso questa canzone, qual è la più bella secondo te? Ah no, non mi puoi fare questa domanda! Sì, 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 sì. Allora, io ho un debole per lo spagnolo, chi mi segue da un po' lo sa, perché io ho vissuto per un po' di tempo in Spagna e è una lingua che considero quasi la mia seconda lingua, però questa canzone in particolare è stata tradotta in spagnolo, cioè è nata in italiano, a parte la parte in inglese che è nata così com'era, la parte in italiano è stata poi tradotta in spagnolo per farne la versione spagnola, quindi ha sicuramente meno immediatezza. Però, ecco, ascoltatele tutte e due e ditemi se lo spagnolo vi sembra che funzioni meglio. Beh, per quanto, perlomeno per quello che hai raccontato, per la dolcezza, la connessione con il cuore, queste cose qua, secondo me la versione in spagnolo ci sta davvero bene, visto e considerato che la lingua spagnola è proprio molto dolce, il modo di parlare rimane molto romantico, che poi può piacere o no, perché non a tutti. Vabbè, certo. Piace comunque. E da questo EP poi avrai altre perle da tirar fuori? Allora, no, per il momento questo è di fatto un singolo, anche se in due versioni, perché questo è un nuovo brano che porto nel mio tour imminente, perché parto ormai la settimana prossima, mi fa effetto dirlo. Comunque, insomma, ho un tour che toccherà alcune città in Germania, in Austria, poi torno per un breve periodo in Italia e riparto subito dopo andando in direzione della Francia, quindi da Torino vado verso la Francia, qualche data in Francia e poi verso la Spagna, appunto, dove riporto il mio cuore e poi, quindi diciamo che in una ventina di date circa, porto anche questo nuovo singolo, insomma. Bene, bene. Quanto ci piace questa storia qua, Anna, davvero tanto. Come inizia la tua passione per la musica? Eh, allora, inizio da un po' di anni fa, quando, sì esatto, non importa quanti, un po' di anni fa perché avevo un pianoforte in casa e quindi ho avuto la fortuna di poter iniziare a suonare da piccolissima e poi quindi ho studiato pianoforte, poi a un certo punto ho incontrato sul mio cammino il flauto traverso che dico sempre che ha scelto me più che io aver scelto lui perché nessun altro strumento mi aveva fatto questo effetto pur avendone sentiti tanti nella vita, ma in quel momento quando vidi questo basker che suonava a Parigi e suonava appunto un flauto traverso, io rimasi ammaliata da questo strumento e quindi ho iniziato a studiare anche quello e poi studiavo canto corale e poi a un certo punto nella vita ho iniziato a mettere in musica dei testi che avevo per così anche casualità, nel senso che avevo amici musicisti che cercavano testi e quindi da lì è nata poi l'esperienza degli dramanti e poi tutto, esatto. Quando scrivi? Quando sei di buon umore? Quando sei di cattivo umore? Quando sei triste? Quando è che scrivi? No, ti direi che non c'è un momento migliore, a seconda dei brani alcuni sono nati nei momenti più terribili altri non necessariamente, magari ero rilassata, tranquilla e ho avuto forse più tranquillità mentale di potermi concentrare su un tema che avevo a cuore, per dirti Feministas Contacones che è questo brano in spagnolo che è diventato abbastanza famoso in Spagna e per il quale appunto torno sempre volentieri là e che conoscono era in realtà un brano molto rilassato da un certo punto di vista, cioè un periodo buono della mia vita e avevo a cuore di portare dei temi che mi interessano come quelli del femminismo e in generale della libertà personale, quindi è nato come inno femminista, diciamo così poi c'è dentro la libertà anche di pensiero, la libertà di religione, la libertà di essere, di apparire come si desidera e quindi è diventato come dire un chiamare tutti alle armi, passami il termine, armi buone del lottiamo tutti insieme nella direzione della libertà di tutti, donne, uomini, non importa poi le questioni piccole non importano, l'importante è che tutti andiamo in quella direzione cioè di rispettarci tutti l'un l'altro e di non trovare la propria libertà Il rispetto è fondamentale anche perché se vuoi la libertà devi anche rispettare te stesso, gli altri e possiamo avere la libertà che vogliamo, che ambiamo Proprio oggi stavo intervistando una ragazza, una cantante giovanissima, 17 anni e parlava non di femminismo ma parlava di come le ragazze, come le donne debbano giustificarsi in determinate situazioni come ad esempio indossi una gonna che non è cortissima è semplicemente una gonna e ci vai a scuola, non puoi, devi giustificare e dice ma perché devo giustificare una cosa che non ha bisogno di essere giustificata quindi avete una connessione, praticamente in qualsiasi età vedo che poi come musicista avete delle stesse connessioni questa cosa mi piace ed è un problema che dovrebbe essere affrontato ma non è facile non è facile perché poi come apri un argomento del genere subito arrivano i giudici, no? che i bravi leoni da tastiera che scrivono senza metterci la faccia, è un po' così Ascolta Anna ti voglio chiedere questa cosa, Join Your Heart è una canzone che dà scritta per qualcuno in particolare, per qualche storia in particolare oppure semplicemente così hai voluto riconnettere il tuo cuore e basta? Guarda, penso che sia nata così, spontanea, nel senso che stavo scrivendo il brano che è uscito l'anno scorso che è All We Got, anche lì in inglese per una parte e nel provare i suoni, sai quando sei in fase creativa che quindi saltano fuori tante altre cose oltre a quelle che ti servono in quel momento per quel brano è saltato fuori il riff iniziale di Join Your Heart salvato in un file come spesso accade per un uso futuro diciamo e poi in realtà è risaltato sì, cioè sai quando suoni, suoni e è saltato fuori una cosa è bella questa, aspetta che la registro e di lì a poco riascoltandolo perché poi lo faccio spesso le cose che ho diciamo embrionali le riascolto per vedere se può saltare fuori qualcosa di buono a forza di ascoltarlo è saltato fuori ma nel giro di poco, un paio di giorni un po' tutto il resto insomma, poi ci ho lavorato con Massimo Minotti che è il mio chitarrista e produttore che fa sempre parte della fase creativa anche insomma e niente, quindi è saltato fuori così Allora, in tutti gli store digitali vi ricordo Anna Luppi con Join Your Heart il singolo che potete ascoltare e far diventare vostra colonna sonora preferita grazie agli store digitali, grazie a Spotify che ci dà proprio la possibilità di avere la musica che noi vogliamo in qualsiasi istante sempre a portata di mano Anna Luppi grazie per essere stata con noi buon lavoro, in bocca al lupo per il tour Grazie a te Io sono qua, qualche altra novità, ti aspetto Grazie, benissimo e se avete voglia di seguirmi sui miei social Anna Luppi Music, mi trovate un po' dappertutto e siccome parto per questo tour in parte anche un poco folle perché prenderò su anche i miei bambini insomma se mi seguite mi fa piacere perché vorrei proprio sapere anche da voi che effetto vi fa insomma come risulta questa follia che mi sono messa in testa di fare Sicuramente risulterà perfetta perché se hai il coraggio di farla e poi con i figli a carico dietro secondo me sarà perfetta per davvero grande coraggio Vedremo Sì dai Un abbraccio Ciao Anna Ciao, grazie